Non volevo stare meglio perché avevo qualche fastidio a livello intestinale, mi aveva fastidio al colon, avevo spesso le articolazioni delle ginocchia, per cui cercavo una soluzione per stare meglio. Sinceramente nessuna, ho conosciuto METAB grazie alla nutrizionista Marcon Francesca e da lì è iniziato il mio percorso. Non riconoscevo per cui non avevo dubbi, li ho provati e mi sono stati consigliati, per cui li ho voluti provare, mi fidavo poi. Beh, sicuramente mi ho avuto più energia, sono stato molto meglio, sono passati i dolori intestinali, i dolori a livello del colon, eccetera, eccetera, sicuramente hanno fatto il suo grande effetto. Beh, sì, ovvio, li raccomando, li raccomanderei sicuramente, se uno sta bene, ovvio che li raccomanda. Grazie a tutti.